Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulla strada statale 372 Telesina, sino al 3 luglio, esclusi giorni festivi e prefestivi, per un cantiere attiva la riduzione di carreggiata, nel tratto compreso tra il bivio con la strada statale 87 Sannitica e l'allacciamento con il raccordo di Benevento, in entrambe le direzioni, in tratti saltuari. Sulla tendenziale di Salerno, sino alle 18 del 2 giugno, per lavori attiva la riduzione di carreggiata, nel tratto compreso tra le uscite Salabagnano e Fratte. Sul ramo di Capodichino, dalle 22 di stasera alle 6 di domani, per lavori è chiuso il tratto compreso tra lo svincolo Casoria e l'allacciamento con la 1 Roma-Napoli in direzione Autostrada. A Napoli, fino alla fine di giugno, per lavori di realizzazione della stazione Municipio della linea 1 della Metropolitana, è attivo il divieto di transito veicolare in piazza Municipio. Per tutti i dettagli potete consultare il nostro sito all'indirizzo www.muoversi.regione.campania.it. Dalla redazione Muoversi, Nunzia Canfora. Servizio a cura di Acamir e Regione Campania